Buonasera gente, buonasera Guarda sti Genji, basta, basta Genji, basta Cos'è Anofficial, non ti scaldare Siamo live Anofficial Ah scusa Trattieniti Anofficial, succede Eh va dai, sti qua Che giocano in modo scorretto, non mi piacciono Ok forse così, a stamaniera potrebbe andare un pochettino meglio Allora, ok Cesemo gente, cesemo Quindi prima non c'eravamo, non eravamo veramente in live No, da quando ho cominciato a dire sono live Ah ok, va bene Ci sei rimasto male Ti ti dà occhi, sta attenta che tu non me la racconti per niente giusta È vero Allora Madonna, quante cose c'ho da togliere qua Tutti spray di merda Via Quanto è Bastion Audio Cosa, quanto è che Questo è carino Poi Quel periodo mentre pescava A FK A FK Che la mettiamo A FK Poi Lago Vittoria Fa cagare Perfetto Poi Va bene Le piccole cagare Giovane maestro Midori Poi Che altro c'è qua Niente Tutti spray di merda ragazzi Mamma mia Quanto Quanto è cancer Finché non lo aspettano Mi sto togliendo tutte queste cose Qua che mi sono rimaste dai forzieri ragazzi Perché sì E' anche vero Spray Che spray è questo? Che va bene Ok Simmetra Che ho trovato Di simmetra Uno spray di merda Eh Oddio Ma quanto è cancro Fare in questa modalità? Ciao Andre Quanto è cancro? Andre Sei andata al cinema? Oppure sì? E se sì Com'è andata al cinema? E se sì Cosa hai visto al cinema? Ce l'aveva detto? Cosa aveva visto? Cosa andavo a vedere? Non l'ho sentito ragazzi Sono pessimi Neanche io mi ricordo Però mi pareva che ce l'avesse detto Ah no Ma può essere Solo che io Non capisco mai niente Quindi Cos'è sta roba? Eh Lasciamo stare Meglio il mental Oh Ho levato tutta la merda No Il mio amico aveva la febbre Vado lunedì Visto Life is strange No Non l'ho visto Andre ancora Ancora non l'ho visto E non voglio spoilere Devo ancora vedere il prezzo Il prezzo del gioco Devo ancora vedere tutto Ma a me pare 25 euro Sullo store Non ho capito male O quello era il preordine Non so E comunque Sì Devo Lo devo prendere Solo che oggi ho fatto Un acquisto pazzo Un official Ho comprato Il libro di Lovecraft Non lo so se lo conosci Ciao Di Dio Quale? Cioè la raccolta Di tutti i suoi racconti horror Di Cthulhu Era bellissima Era lì Mi guardava La copertina tutta nera E le pagine tutte nere Era bellissima Non potevo lasciarla lì Ed era pure in sconto Quindi capitemi Dovevo prenderla No Zeus Ma no cosa Zeus Cosa Ti dice sdraiata per terra Vabbè An official Finchè Un attimo No 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 Mi fai sconcentrare Fai fai An official Ah ma io l'ho fatta L'arcade Allora niente Lol Vabbè ma esco Dai No 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 Maria Io esco Vabbè Io esco Ma dai Se la devi fare Falla no official Ti pare Vabbè ma non importa Non so che niente Frega cazzo No cosa Zeus Mi dici cosa no Per favore Chi è Ah sei tu An official Partecipa Che c'è Dici che ti guarda Mai più Mai più Zeus Che droga hai usato Stasera Zeus Quick Ma si Poi inizia Ah si Zeus ragazzi Dovete sapere Che Si droga Tutte le sere Quindi Noi perché ormai Lo conosciamo Quindi Sappiamo che è così Tullo è quello Con i tentacoli Si Non vedo l'ora Di leggere Quei racconti E qui parla di cose interessanti Si Cioè Lo sto seguendo Lo so E anche io A tratti Ma proprio Mai più Mai più Eh Che cosa è una quick Qualcuno ha detto Torbjorn 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 Che è napoletano Mai più Mai più Zeus Stasera non gioca Gente Ho appena letto adesso Su telegram Neanche lì se c'è stasera Quindi In ufficiale Cioè siamo io Andra viene Non lo so Andri Che fai stasera Facci sapere Andri Siamo così giovani Giovani Siamo così giovani Eh no Eh sì Buonanotte Zeus Mi dici Che cazzo stai dicendo Perché io Ancora non lo capisco Ciao Metti Qualcuno ha detto Torbjorn Sì Stasera l'ha detta No official Metti che fai Ci sei per giocare Tante volte Faccia sapere Gioco a god A god A cod Non c'ha voglia Niente Andre Chico Ci gioca soltanto Quando deve streamare Lui ormai T'ho visto oggi Che streamavi Overwatch Cioè Non sono entrata Nello stream Perché stavo uscendo Ma ho visto Che stavi streamando Overwatch Prima No no Ma si cazzi Di Overwatch No ma io Non lo streamo Overwatch Zia E poi l'ha streamato Proprio quando sono andata via Io Bene Io volevo streamarlo Solo perché Quando host Almeno posso Fare dagli host Normali Adesso si Ok metti Alla amo Finimo questa E ti invitiamo The pennies under the table Mi fa piacere Zeus Mi fa piacere Mi fa proprio piacere Che cazzo è? No Zaria È incounterabile Ma in serio È una cosa Raga Io la odio Sto odiando tutti Nella vita Beh è bello Che con due healer Ma proprio Ma proprio Guarda ma proprio Sono gli healer In questo gioco No è bello Che ne abbiamo due In questa partita Che in quick Non capita mai Vero Ma quante volte capita Di avere due healer In quick Non capita manco in comp Cos'è Cos'è l'healer Nelle quick Ma c'è Nelle comp Capita l'healer No A me sembrava di no Non penso di aria Ah no Ammetti Quello manco io Cioè Iei 11 Piastacco No 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 Ah che palle Dov'è? Zaria della minchia E c'è pure la cecchina E' ovvio E' ovvio E' ovvio C'è una cecchina Guarda Stealer Oh dai Ressa Hai due persone No Tre persone Niente Non ce la fa Non ce la fa Non ce la fa Ah ma sei arrivata Ah ma sei arrivata A 500 Ah è vero Metti Quali sono Sti quattro annunci Metti Hai visto Mi sono proprio sbrigata Arriva a 500 Proprio per sapere Si annunci Qua Boh Metti in c'è più scuse Dica Aurora ma Te Ma L'hai fatto lo spoiler Sull'emote? No Nope Nope Qua te lo diciamo Non official Boh Le cose Le Come vengono fatte Allora Diciamo che come vengono fatte Ancora non lo so Manco io Perché la ragazza No vabbè Come vengono fatte Vabbè hai capito Dai Hai capito Non fa la finta tonna Il tema Il tema Il tema Ok Praticamente Si ci dicevi Quanto ragazzo È morta È un paio di persone A me fa piacere E Noi Si Il tema C'entra Coi pesci Ragazzi Ma non solo Quindi Cos'è Tutto questo bordello Sto healer Oh Non mi ha sta zaria Della minchia Ve lo posso dire Zaria della minchia E dai Dopo appena ci sono Gli dico Ok Metti Va bene Intanto dopo sta partita Ti invito Così non hai scuse E lo devi dire Comunque ragazzi Ragazzi Tempo due settimane Più o meno La ragazza Mi fa avere le motte Ci ho parlato Proprio Prima di cena Ma il modello Del pesce È quello Che ti ho mandato Io Oppure uno Un po' più brutto No No Official Non è quello Ti pare Cos'è quella Schifezza Se gagate È arte concettuale Ma quale arte Non è colpa mia È il piscigno Come quello che dice Che video è arte No De esporre dentro Al museo Ah Senti Cicciabella qua Come cazzo Si chiama questa Ma cos'è Non muore mai Nessuno Una cosa è certa È monocromatico Io dovrei rifarla La sub Eh Andri Io non ti dico De no Dai Sono scherzato Però dai Almeno ci sono le motte Fra un pochino Ma era pure ora Sembra un po' una scusa Vero No Quali checkpoint Ma stai scherzando Checkpoint Invitami sul main Ok Quindi jogger Qua Merci Bensi Oh Ciao Merci Ma cosa è Sono tutti qui No Non ce la fanno Non ce la fanno Non ce la fa La Merci A starmi dietro Ma che palle C'era già Aria Ragazzi Che succede Zeus Mo' leggo Aspetta Niente Ho perso malo Io lo so Io lo so No 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 A noi ci va così Così bene Che non so che dire Tu diresti Sei la vima Stai bene Hai mai visto Un alba così Zeus Che cazzo Sai a di Zeus Questo sta Cantato Canzoni Zeus Presumo Non lo so Ah si Vabbè Questi avanzano Come i disgraziati Ma quale carico A destinazione Porca puttana Ma che stanno a fare I nostri Niente Si Ah guarda Non so loro Io sto cercando Di destreggiarmi Tra Tra i nemici Vabbè Mi ho fatto i due Guarda sto stronzo Oh Bello Mi ho sciolto Non ho capito Eh niente Perdiamo male Ma va bene così Certo Se la v E tu Porca puttana Io Ah già la cosa qua Orisa Moriva mai Orisa Orisa Mi cazzo Non la si chiama No 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 Guarda se Guarda se Mi dà Una mezza cura Sta qua Oh grave Pretendi troppo No official Io lo dico Mi ha curato Tipo un secondo Poi se n'è andata Vabbè Chi se ne prega Sogni accontentarsi Nella vita No Sì sì Per carità Per carità Per carità Per carità Per carità Però Eh Eh dai Orisa Su però E toglie E toglie Mica Dai Che è morta Forse Non lo so Uh Chi cazzo è Zaria Zaria Ma che davvero Davvero Qua sta giocando a scondino Con la guido Guarda con la guido La merce La vita che c'ha Questa la vita che c'ha Oh Io ho capito che Però In una certa Ma secondo te Se non me lo prendo io Lillard Non riesco a curarmi da solo Eh 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 Cazzo di no Suona molto come un assolutamente no È vero Eh già C'hai ragione E che cazzo Vabbè Ci sono una persona sola Ma va bene così Sì 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 ma tranquilla Ah no ma pensavo tutti su di te A me capita Quello Ti guardo ed è giallo win Ma che c'hai nowlin Ovviamente mi faccio la doppia Che cazzo di musica dei set Ma quale pioggia Ando sta Ma togliete Ok È morto È un official Devi fare la play of the game Con Thorbjorn Mentre martelli sul muro Ti dice Aurora Ma che ho fatto Che ho fatto un'uccisione Hai fatto una tripla Hai fatto una tripla Porca Beh Al primo checkpoint Ah No era una doppia Scusate A me sembrava una tripla Poi potrei sbagliarmi Ma pareva una doppia No official Non so Vabbè Però vabbè Sei una tripla No comunque Al limite L'ha fatta l'azzaria Cazzo È caduto il telefono Ah Dio mio Ok Madonna regà Vedo l'ora di passare Pi cippe Non avere tutti sti cosi qua Di cellulare Cosi Ma che cazzo è Ma Zeus No Invece devi se stronzate Un po' di venire a giocare Tutto il rispetto Però Zeus Comunque È bello Il mio pesce Va bene An official Quello che ti pare Ma non mi sembra Molto appropriato Cioè Come lo faccio legare Poi Con il tema Con questo atteggiamento In nessun modo Lo fai legare Vero Con questo atteggiamento Non vai da nessuna parte Dio Un po' Oh Oh però Però Ma cazzo Va quella Ma mica Se sarà curata Oh Fatto un resto Decente Dov'è Amando Cazzo Vai Morta Dimmi se c'è un altro posto del genere Dimmi no Dimmi se c'è un altro posto del genere Madonna mia Zeus Cosa? Cosa? Non lo so Zeus Sei drogato Sta sentendo musica malinconica Secondo me Guarda Io la fiducia la do Ma secondo me È così di sua Non c'entra niente Droga Non droga Ma quella influisce No vabbè Io dico droga Perché l'ha detto lui Che lui Usa queste sostanze Quindi deduco Che a lungo andare Facciano anche male Per cui Niente Eh sì Vabbè Che succede Alla riscossa Tutti quanti Qua in questo momento Andava tutto così bene Merci mori Grazie Ma Widowmaker si accorge No non si accorge Widowmaker è ricoglionito Ok Vittoria Allora Fatemi vedere Chi è sublime Of the game Dai Dai datelo a me Che hai fatto Ma non mi ricordo Eh dai Ma io ho fatto una doppia No ufficio Al suo assicura Ok Allora intanto Io invito Invito metti qua Che mi deve di Sti quattro annunci Io sono una persona Estremamente curiosa Quindi Non posso aspettare Oltre Ecco Te lo va 34% Dei danni squadra Curati Io zero Me ne ho dato mezzo Lol Molto invito Pune nel gioco Aspetta Allora Invita Jogger È abbastanza grande Per invitarsi da solo No Che ho fatto Ah si No l'ho invitato L'ho invitato Si è stato invitato Della formazione Ok perfetto Bene Quando vuoi Jogger Jogger alias Metti Eccolo Comunque io l'ho visto Scusate raga Faccio una cosa La cata Perché mi si è messa In testa in giù E tipo è troppo L'hai suggerito Sul party Si Un official Odri Ma perché Te metti così Odri Mo me la mando Sul gruppo Odri Vi faccio vedere Come sta messa Ragazzi Io ho un cane Non ho un gatto Davvero? Che razza? È un bastarda Ciao Metti Ho appena ruttato Ho appena ruttato Quindi non posso Non posso Esordire col solito rutto Però ciao Ciao Metti Non ti preoccupare Il mondo Il mondo Ne piangerà Esatto Il mio grido di battaglia Altro che L'eroi Jenkins Quando ci sono Io che ho rutto Vabbè insomma Parliamo di cose serie Non si annunci qua Guarda guarda Asas penso proprio Torbio Torbio Basta lui Solo lui L'eclettico L'eclettico Io Ok scusate ma avevo Ma ogni shot con l'anzo Ne sparo uno Eh vabbè dai però Uffa Va bene Dai vediamo se questi sono Profi e si prendono l'healer Gli tocca Gli tocca Uno si è preso la zaria E l'altro il McCree ottimo Il McCree era quello che ci serviva Avrei preso io l'healer in realtà Perché mi stanno allenando molto con Non hanno ultimamente ma visto che devo fare Gli annunci Devo prendere un personaggio con cui so fare le kill Certo Meglio de Anzo Ah mi è pruda il braccio Grazie Che problemi ci sono Sì è Infatti Mi mi ero con una mano sola Non è mica come l'altro giorno che eravamo in rank Non c'è bisogno di mirare Non è vero in effetti Ti fai una sega nel vento giochi comunque bene con Tor Non è questione Come ti comincio un mio amico con Tor Poi guarda Fai la play of the game E poi ti autovoti all'ultimo Che è come se fai una sega e ti applaudi da sopra Eh di la sta cosa Zeus Se proprio non ne puoi fa meno Dai che Anzo arriva sopra Ho visto Ah che Ho beccato però Dov'è? No mi sparano la torretta Sento già gente che urla Tu là Ciao Necessita tattica Guarda quel cazzarola di Dunfist Ma sai che è morto No no ma io non l'ho Ah Ho beccato una torretta in base Va bene Mamma mia Quindi posso partire con il primo Vada Che dalla prost Che dalla prossima Adesso quando dovremo fare le rank Inviterò anche un mio amico Ah attenzione Però non mi stegnate mentre sto facendo io Dai inviterai un tuo amico Inviterò un mio amico per fare le classificate Che ci aiuterà a salire Che anche lui Ha mezzo platino Quasi quasi diamond Ottimo E dei miei Mercy E so Ok No no è proprio bravo No è proprio bravo A 2007 Anche io sono No Ok Come prima Non c'è mai Direi Perché c'è fatta Ma a missarla De un bravo Lucio Barra Mercy Di salutare molto bene Tutti e due Di Spagna fumava la ganja Perfetto Mi fa piacere Zeus E anche un discreto Doom Fisto oltretutto Ottimo Ottimo Beh Invitalo pure E quello è il primo Che forse è uno dei meno A noi ci fa sicuramente piacere Per persone Tanto la seconda chi l'avevo già fatta Quindi Vediamo un po' Ho spottato la sombra tantissimo No ti stavo per dare la Ecco Ric E poi come famo col gruppo Quale è il gruppo Andre Kiko Se entra anche il suo amico alla fine la cosa del gruppo per lei era anche una cagata Andre Kiko Ma può stare calmissimo lei Chi Ah perché dice già siamo in sei Se ci vuole arrivare in diamond Eh perché dice che Allora noi avevamo creato un gruppo Telegram qualche tempo fa Dove già eravamo in sei Allora forse si riferiva a quello Oh grazie per il follow Pablo 9025 Benvenuto nella più E allora non gioco neanche io Se è quella la questione Non ci sono neanche io In quel gruppo Telegram Ma il fatto è che Sì fino a Poco tempo fa Appunto noi giochiamo Giocavamo No no non è No mi sa che ti sbagli col canale Telegram Tu Noi avevamo proprio fatto un gruppo Metti Vabbè che infatti non ci sono Cioè su Telegram si ci sono Ah sì Non sono da nessuna parte E comunque va bene Non in qua Se l'ha presa No va bene No è che No lo so Se noi qua eravamo abituati a giocare con tutti Un po' a rodazione quindi Sì Sì Adesso faccio il shot anche Oddio Sombra ma proprio qua La roba del gruppo era nata solo da una brutta esperienza Va bene Allora quindi questo era il primo annuncio Sì era il primo annuncio Allora Poi il secondo annuncio Era che quando arriverò a Master Ok Io ti farò una donazione sul Ah che carino Ma grazie Appena arriva Master Grazie Penso che Penso che verso Natale Già ci dovrei essere Ah che carino Grazie per il pensiero E quello Perché l'avevo già promesso ad altri due YouTube Cioè due Streamer Ma molto più famosi Sì Sì proprio Ma molto famosi Hanno Sono conosciuti Ah proprio Ok Penso che se qualcuno segue i sport di overwatch Li conosci sono power Ah mamma mia Quei odio Che odio Cosa Niente Aspetta fara Ti faccio che mi serve Che mi serve la kill per fare l'annuncio Ah fara Ma vaffanfrega Ok Una pioggia di urla Di urla Di tosse Esatto Eh c'è Genji Genji qua E quindi Quindi grazie Che carino Ok Poi Quindi Che palle Mi focussano Siamo al terzo annuncio Vabbè Adesso gli sparo tutti all'ultimo Adesso fammi concentrare Che sto facendo una roba Sono in ultra Sono in modalità ultra Adesso Vai Iiii c'è gente sul punto Da quando Ah forse sombra Eh ti pare sombra della minchia Dove è voi tra l'altro Ah ecco No questo è presa Ma che cazzo Vabbè Merci please res Res me Dai quale vabbè Ah sombra di merda però eh Ok ciao Genji Beh si si vede proprio Che siamo in quick Noi stiamo difendendo senza healer Loro stanno attaccando senza healer Nel frattempo Anzi loro senza healer E senza tank Andre Chico ci dice Non possiamo tirare fuori qualcuno Per loro Scusami Non voglio essere cattivo No vabbè Andre Chico Ma infatti c'è nel senso Qua nessuno caccia nessuno Però voglio dire Se non ci siamo in sei Comunque quel giorno Ma io non voglio neanche Cioè fare tipo Io pensavo che vi piacesse l'idea Poi vabbè se non volete Posso anche No cioè nel senso Io Io pensavo che vi servisse gente Per quello L'ho detto veramente Io A me non mi piace Essere selettiva Nel senso che comunque A me piace giocare Con tutti un po' A rotazione Diciamo È quella la questione Amo grado sto gruppo Perché comunque Ci ritroviamo Più spesso noi Qua a giocare E tutto Però è chiaro Che se non siamo in sei Quel giorno Cosa che comunque Capita spesso Perché c'è Voglio dire Ognuno ha gli impegni propri E non tutti ci troviamo Ma sì ma poi con la scuola Figurati se Poi con la scuola Vabbè innanzitutto Sì io Cioè nel senso Giusto Sì ultimi giorni Che mi sto a fare il pc E sto aspettando Che lo compro Ma da quando c'è il pc Levo la mattina E streamo solo di sera Perché la mattina Poi mi serve pure a me Quindi Cioè se ci stanno posti liberi Per giocare Siete benvenuti Ragazzi Ma il master Su console è fake Flaming coming Ci dice Rick Ma cosa Su console Dipende quale Su Xbox È fake Su Xbox È parlatissimo La cosa Perché come Non ci sarò spesso Lì si può fare La rotazione Vedi per esempio Zeus già lo dice Che comunque Lui ci avrà Gli impegni suoi Molte serie mancherà Per cui Ragazzi Alla fine Il gruppo Telegram Per fire Anche Appena una certa Nel senso Se non ci ritrovamo È ovvio Che entra Altra gente Che vuole giocare Però mi fate finire Di dire Poi tu sei curioso Però non mi fai finire Di fare È vero Vada vada Dica Sei molto scorretta Aurora Perché lo so Cattivi Sei una persona Molto malvagia Ufa Ma io devo dare Retta alla chat Ragazzi Con calma Mi sembra Mi sembra un po' Una scusa Attende Sembra tutta una scusa No official Forse è Perché è vero E perché fa ridere E fa ridere Vabbè dai Lascia parlare Facciamo parlare La terza notizia La terza notizia Una futura possibile Apertura di un canale YouTube Attenzione In realtà Dovrei In realtà ho già Però non Mal faccio Ci ho fatto un video È uscito anche male Ottimo Vabbè Vabbè È appena Insomma Lo ufficializzi Magari potrei fare Anche io Delle stream su Twitch Appena c'è una connessione Che sia Umana Almeno Non dico Una connessione C'è un'umana Quanto vuoi Di connessione Ma lì Lucio e leane Che si buttano giù L'odio puro Sei proprio una brutta persona Io Rick Dai retta alla chat Metti è brutto Ci dice Zeus Ma YouTube Dopo l'aggiornamento Può chiudere Quale aggiornamento Rick Oddio Quello dell'apocalypse Io non sto seguendo La piattaforma Ultimamente Deve essere sincera No no Semplicemente è famoso Cioè almeno Non è per i soldi O per cose Semplicemente per Per dire Infatti C'è Ma A me la cosa Che piace di YouTube Sai qual è Che non è diventare famoso Per guadagnare soldi Diventare famoso Per poter andare in giro E alle persone Che ti vengono vicino A chiederti Oh ma tu sei quello Lì di YouTube Tu sei quello di YouTube LoL La fama Insomma Esatto Che mi faccia Essere conosciuto Insomma Sì Sappiamo cosa vuoi Che ti porti A essere conosciuto Occhiolino Occhiolino Gomito Gomito Sì 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 Voglio dei fottuti regali Esatto Datemi soldi Ecco Sì 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 Uno di questi regali Si chiama Fili La scuola ne ho Guarda Fin troppo Fin troppo Attenzione E no Simmetra cancro Togliti Ma dai Ma non muore mai Simmetra ragazzi E Morta Allora Aspettate ragazzi La figa I pornazi È Rick Rick Guarda Sì Dopo quello Che mi hai fatto vedere ieri Guarda Lasciamo perdere Ok Va bene Poi Ah poi posso far vedere una roba Una cosa che porterà il Ah dietro no Sì Canale youtube Che portano sul canale youtube Sarà la possibilità Cersiamo di fare tutorial Su alcuni personaggi Di insegnare Per chi ne sa usare Ah Ah Ottimo Tra cui la sombra per te Mia cara aurora Ah grazie Che quella mi serve E mi interessa Perché a me sombra Mi piace tantissimo Ti insegnerò Ti posso già Che posso già Incominciare Da oggi Ad insegnarti A usare quel personaggio Beh Bello mi sembra Anche così Le fate La sai già usare Ed è un'arma in più che avete Magari Poi ne avevo ancora uno Alla fine Che però dirò dopo Dirò dopo Ah quindi ti tieni L'ultimo annuncio Ah ok Perfetto Allora intanto Qua ci scrive Pablo Ciao ragazzi Se volete Mi potete aggiungere Su PSN Sono di livello Basso 43 Però ho esperienza Su Xbox Perché giocavo Sto partendo Da zero Su PSN Ok Pablo Guarda Dopo appena Ho fatto Ti aggiungo Subito O se no Guarda Se vuoi Aggiungimi tu Forse è più facile Perché Se no È uguale Ti aggiungo Di dopo Come preferisci tu Comunque Se vuoi giocare Sei il benvenuto Attenzione Intanto Zeus Ma non sei indignato A causa dello spam Di metti Ma chi Ma qual è il problema Ragazzi A me non mi dà fastidio Oddio Se poi Se mi ha consegnato Insomra Per favore Famo a cambio Cioè nel senso Ti invito a fare I video sul canale E ti prendi Tanto poi La cosa a cambio Sarà che Io su youtube Dierò sempre Se mi volete vedere In live Andate a seguire Allora Collaborazioni Esattamente Eh vaffanculo Sbagliate a fare La ultra Andare sotto Ciao Astodos Ciao Elisa Grazie Zeus Per la collaboration Ciao ragazzi Antipatica Dove ci odia Odiamo Per forza Sicuro che poi Yotobi ti caga Adesso Che E poi Di Insulta Oddio Che io ho incontrato 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 Certamente bravo Cioè certamente Lui anche gatto E' molto bravo Io l'unico Io ho incontrato Anche Erk Come persona Io l'unico youtuber Che ho incontrato E' Elino Dietro? Non so se lo conoscete Vi parliamo di videogiochi E' Elino No Frobs è l'altro Ah Perché adesso Non stanno più insieme Da quello che ho capito Però prima ce l'è Ma non ti sembra Di esagerare Oggi Una official Guarda che voglia Botta Di Eh Va di lei Ma Va lei Io l'ho già scritto Prima aurora Ah no Ficcio Dove fare La play Degli incontro Dio Mentre martella Sul muro Non mentre Sfala Hai ragione Hai ragione Sono Non una play Degli incontro Sono martelli Sul muro Eh Insomma Ti dovi Fallo L'ultimo Annuncio Però Ecco Dove fare l'ultimo La possibilità Di creare Un vero E proprio Team Per fare Tornei Su casual Gamer Di Overwatch Senza Un piacere Voi andate Io poi vi raggiungo Cioè In che senso Spiegate un attimo Aspetta Nel senso Nulla Che in video lisa Raga Nulla De Ah si Io Ho capito Che non c'era Lisa Ho già avuto Un paio Di team Con cui ho giocato Nei tornei Su casual Gamer E ho fatto Discrete cose Ok E li mettiamo scarsi Solo che non mi sono No non erano scherzo Relativamente decenti Sì Ma La cosa sbagliata È che avevano già Una loro mentalità Ben prestabilita Adesso Io Voi Siete Come delle menti Da plasmare No perché siete ancora A oro E ad argento Quindi siete facilmente Plasmabili Come giocatori Per poter arrivare poi A platino E a diamante E più Quindi Essendo che avete Meno conoscenza Del gioco completo Io vi posso dare la conoscenza Sugli altri personaggi Che non avete ancora usato Che non conoscete Magari così bene Imparati ad usare bene Cioè praticamente Tu ci stai proponendo Di Farare seriamente A giocare Esattamente Ma poi andiamo Agli europei Non è mai In Pallare No Non quello però A giocare